Nadine Moriot e Jean-Michel Cravei Civili sono le ultime vittime del maniaco delle coppiette di Firenze. I loro corpi vennero scoperti agli scopeti il 9 settembre 1985. Nadine, mutilata del seno e del pube, era nella loro tendina canadese. Jean-Michel, che era riuscito a fuggire, venne trovato in una radura, coperto da rifiuti. Da subito fu difficile stabilire il giorno e l'ora della morte, visto il diverso stato di decomposizione dei corpi. Per le indagini ufficiali, il massacro avvenne la notte di domenica 8 e, in base alle accuse di Giancarlo Lotti, si è collocato Pietro Pacciani sul logo del delitto e poi, quando Pacciani era già morto da innocente, si è arrivati alla condanna all'ergastolo del compagno di merende Mario Vanni per 4 degli 8 duplici delitti del mostro. Ora che anche Vanni e Lotti sono morti, quella verità rischia di infrangersi in base a un esperimento giudiziale che avrebbe ricreato, seguendo gli ultimi progressi dell'etomologia forense, le condizioni nella tendina dove era Nadine. Dalle larve e la fauna cadaverica sarebbe emerso che la morte risalirebbe almeno al giorno precedente, inficiando il racconto di Lotti. È la prova decisiva per chiedere la revisione del processo, dicono gli avvocati Antonio Mazzeo e Walter Biscotti, in rappresentanza di un nipote di Vanni, che avanzeranno la richiesta di revisione al Tribunale di Genova. Grazie.